Benvenuti in questo unissimo video, io sono Gamer409 e oggi siamo su Geometry Dash Ok ragazzi eccoci qui tornati, io direi aggno subito con il mio livello preferito Ok ragazzi Stiamo andando molto bene No perché lì salto se hai preso e c'è il teletrasporto Ok ragazzi Porca vacca Ok No ma sempre lì Non so ragazzi perché credo sempre lì Ok Ma vaffanculo Ok ragazzi eccoci qua tornati Ma vaffanculo Ma porco cane Dai perché Ragazzi Ragazzi vi dico sono agitato non so il perché Ma perché sono agitato Ok ragazzi Mamma mia Mamma mia Ma perché Perchè Perchè salto Ma vaffanculo La mia era arrivata nella notifica Che ha desbloccato un nuovo color Perchè salto Perchè salto Perchè salto No mi sono scordato lì non devo saltare Porco Ma dai Ma dai Ma dai Ma dai Ma perché non salta Ma vaffanculo No ragazzi come io sono un po' matto Andiamo con il step Oh Nuovo record E Mamma mia Mamma mia Ma vaffanculo Ma che cazzo Neopest Pure neopest Can't be the guy Lasciamo perdere Andiamo con questo dry hot Perchè salto Ma dai Ma vaffanculo proviamo almeno a finire questo comunque ragazzi scusate se non parlo ormai dovreste saperlo perché siccome sono concentrate si voleva è tantissimo ma perché è greppo porca tron Ma dai cazzo picco Ah devo stare calmo Ma dai cazzo picco Ma sempre No ragazzi non c'è verso cazzo Scusate per la parola però Io Ma io clicco Oh vedi che clicco cazzo Perché tutti a me Vuoi il sesso poi Scusate un'altra volta per la parola Ma what a bug Raga aspettate Ok ragazzi Ok ragazzi eccoci qua tornati Ok Ok eccoci qua Ma che cazzo è No ragazzi che figata Ma che cazzo Ma che cazzo è Raga ma che cazzo è Ma è bellissimo Ma non era così prima il gioco Sì vabbè però credo No ragazzi è una figata assurda Ma veramente Ragazzi ma state vedendo Cacchio di figata Non era così prima il gioco Che cazzo è successo No Che figata ragazzi Scusate comunque se ho la voce un po' così ma Ma è sto L'ho persa quindi La mia voce un po' più scarsa Voglio provare un altro Ma chi se ne frega Che ragazzi vorrei provare questo adesso Ma sono quattro livelli Che gioco è? Ah ma un altro Ok ragazzi va bene Vi svelo la verità Ho scaricato geometry dash geom Cioè Ma che cazzo Raga ma che cazzo è Non troppo figo Ma sono nell'inferno Ma che cazzo Ma cos'è sto gioco Fighissimo raga Sono veramente nell'inferno No raga Adesso vorrei provare un attimo questo Mamma mia No comunque io voglio tornare a questo Porca No voglio tornare a un attimo un viking Caroreno Ma che cazzo è gioco Ok ragazzi io penso di concludere questo video qui Spero che vi sia piaciuto Naturalmente Prendete un like Iscrivetevi E lasciate dei commenti Se Ditemi cosa consigliarmi Come altro gioco Naturalmente Come serie Questo c'è Geometry Dash Ce lo porterò Quindi State tranquilli Perché il gioco a me Mi piace Un botto Tranne che muoio E mi cazzo E quindi Bella Ciao 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 Grazie.